ho menzionato tre codici così come nella piazza di san pietro e il papa ha detto la chiesa è il corpo di Dio e anche dico che Lucifero è Dio ora quello che disse Gesù quando lo spirito crea il corpo è un miracolo ma quando il corpo crea lo spirito è il più grande dei miracoli se comprendiamo questo in un livello biologico allora sapremo la verità di ciò che sta succedendo oggi ho sentito dal Lux che in Italia hanno aperto la porta dell'inferno e che in Firenze hanno aperto la porta del paradiso del cielo e quindi cosa significa questo? qual'è la realtà che compete alle persone? ok nella creazione abbiamo due basici sistemi ed entrambi sono controllati da una legge un sistema ossia l'ordine della creazione lo posso illustrare è come un cerchio la totalità e l'umano è la totalità dentro la totalità quindi noi siamo il corpo di Dio non la chiesa noi stessi siamo il corpo della chiesa di Dio noi siamo la super cattedrale questo centro è il controllo il controllo, la gestione, l'amministrazione per controllare la totalità il nostro intero essere dobbiamo sapere come connetterci con il centro dov'è il centro? molte persone dicono che sia il cuore perché il cuore perché il cuore è il punto di incontro tra cielo e terra e all'interno anche noi abbiamo cielo e terra il cielo è il cervello è il paradiso interiore e qua nella parte opposta la parte intestinale è la terra interiore la madre interiore questi due poli interagiscono attraverso il sangue che proviene dalla creazione il punto di incontro tra cielo e terra è il cuore e lì c'è il potere e quel potere corrisponde al libero arbitri What does it mean? Cosa significa questo? Questo potere attraverso questo potere la creazione può continuare è per questo che abbiamo questo simbolo del cuore come amore l'uno diventa due so now possiamo avere un'esperienza in un contesto per cosa? per realizzare chi noi siamo abbiamo bisogno di una dualità dentro, fuori, sinistra, destra giusto, sbagliato buono, cattivo questa è l'esperienza umana il dramma umano ma solo questo è temporale ha un inizio e una fine ma ora dobbiamo tornare al centro ma con coscienza dobbiamo ricordare l'origine come il due torna ad essere uno il seme crea l'albero e l'albero crea il seme sono uno tra loro ora siamo arrivati all'estremo dell'albero però dobbiamo sapere come tornare al centro, al seme il tempo e ora e tutto questo è relativamente unito al piano divino e molte persone non sanno quale sia il piano divino il piano è trasformare questa terra in un portale di pace per creare un portale abbiamo bisogno di due lati non puoi creare un portale con un solo lato l'altro sistema è così la totalità ma opposto la legge di Dio è illegale noi creiamo le nostre proprie leggi chiamato il sistema di lucifero ognuno fa i propri territori le proprie leggi indipendenze le proprie nazioni i territori diversi ma è oggi questo non si possono unificare così dice l'intero circo cerchio l'intero cerchio diventa come spaghetti la legge di Dio è illegale conseguentemente la verità è illegale la giustizia è illegale la libertà è illegale il libero arbitrio è illegale essere è illegale molte persone protestano ma tu protesti per la libertà per la verità ma sotto quale legge in nome di quale legge la legge romana ora è la tua libertà la tua giustizia sotto quale legge loro sono mandatari in qualsiasi momento possono rompere la legge qual è la soluzione l'umanità deve sapere qual è la legge di Dio le persone non sanno qual è la legge di Dio qual è la legge di Dio è una costante che mai cambia è il controllo la gestione noi siamo costantemente soggetti al cambio all'evoluzione ma dobbiamo sapere come usare questo potere se questa è tutta la creazione noi siamo parte di tutta questa totalità quindi per connetterci con il ciclo abbiamo una bocca e l'alimento diventa sangue e il sangue va al cuore e al cervello e quella l'alimento e quell'alimento diventa coscienza quindi Roma ha iniziato a controllare l'alimento a gestire l'alimento con l'inquisizione perché perché la cucina a quei tempi era il centro del governo fu la prima cattedrale ma ancora prima che esistessero le cattedrali il primo laboratorio di alchimia il primo ospedale scuola di vita non c'erano scuole pubbliche a quei tempi era una scuola domestica e anche la banca era il vero governo in nome dalle persone per le persone era la vera democrazia oggi abbiamo la democrazia demonica Roma il sistema romano per questo motivo andò contro la creazione e divenne anticreazione sperimentazione e così abbiamo i due lati come possiamo ora unificare questi due lati solo in una maniera rendere la legge di Dio della creazione la costante primaria la legge primaria quindi possiamo cambiare quell'alimento la creazione nel nostro sangue iniziare a sapere la totalità dall'interno a conoscere dall'interno e questa autorealizzazione Roma quindi Roma sempre è stato un sistema opposto anti-autorealizzazione per quello se ne necessita una maschera passaporto microchip non chiedete a Roma la giustizia o alle Nazioni Unite o qualsiasi governo dovete conoscere questa legge ed applicarla nella vita normale di ogni giorno ed essere in controllo della vostra propria qualità della sangue questa è la verità questo è quello che disse Gesù quando lo spirito crea il corpo è un miracolo ma quando il corpo crea lo spirito è il più grande dei miracoli quindi lavoriamo su questo grandissimo miracolo fate della vostra casa il centro del governo non due ma uno questa non è pace questa è guerra questa è veramente pace l'unione Aho grazie a tutti